Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Vendere Valore del lunedì. Ma è un lunedì particolare, non sono riuscito a mettere insieme un'intervista, non perché le persone non mi abbiano dato disponibilità e tempo, ma non sono riuscito ad assemblare bene l'intervista, quindi questa settimana cambiamo l'ordine dei fattori. Tanto, come dice la matematica, il risultato non muta, non varia. Per cui lunedì, chiacchierata con me, continuo, visto anche l'interesse sollevato, i pareri di molti che mi hanno conformato, consolidato in questa decisione di raccontarvi il libro The Challenger Sales per parlare di vendita, per capire se questo modello è applicabile anche al mercato italiano, così come Fabio Tognella, autore del bellissimo blog Diario di un commerciale, che sembra condividere, è d'accordo su questo punto, anche gli altri amici del Digital Mastermind, ecco, e quindi continuo oggi, in questa puntata, a raccontarvi qualcosa di più sulla vendita. Giovedì, intervista, giovedì intervista, farò in tempo ad assemblarla e poi da prossima settimana ripartiamo. Quindi avremo due interviste di fila, giovedì prossimo e lunedì successivo, e poi continuiamo con The Challenger Sales, che poi verrà raccolto, come mi hanno suggerito in molti, in una serie speciale, quindi un podcast speciale, una stagione speciale di vendere valore, con tutte le puntate di The Challenger Sales, che cercherò anche di trasformare in un e-book, per chi lo desidera. Quindi non un riassunto, non sto cercando di copiare il modello vincente, peraltro, di Marco Montemagno, quello di riassumere dei libri in cinque pagine, no, ma cercare di ragionare sul libro per capire che cosa sia applicabile al nostro mercato, quali sia la ciccia, scusatemi il termine, che sta dentro questo, e in che modo utilizzarla al meglio. Quindi parliamo di The Challenger Sales, puntata 2, dopo la sigla. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni. Stiamo analizzando il libro The Challenger Sales di Matthew Dixon e Brent Adamson, pubblicato qualche tempo fa, che riguarda il modo con il quale il venditore di oggi deve comportarsi, il modello del venditore che oggi ha successo, e spiega in dettaglio questo testo perché il venditore di oggi abbia successo in questo modo e quale siano le modalità che possono portare i venditori ad assumere questo comportamento con i clienti, mostrandosi vincenti, non soltanto nel momento della crisi, ma anche nel momento in cui si tratta di avere più impatto con il cliente, quindi fondamentalmente qualunque momento. Nella puntata precedente che vi invito ad ascoltare e che riporterò nelle note dell'episodio, abbiamo cominciato a introdurre il tema la morte del venditore di relazioni, anche qui qualche precisazione tra poco la faremo, il successo del venditore capace di sfidare gli altri. Ripartiamo allora dai cinque modelli di venditore che sono stati presentati all'interno di questo libro come non tipologie di venditore disegnate a tavolino, ma come risultato di un'indagine svolta sul campo, di aggregazione di comportamenti. Non voglio ripetere tutto, per coloro che hanno ascoltato la prima puntata, e invito gli altri ad ascoltare la descrizione dettagliata di come è stato ricavato questo tipo di schema proprio in quella puntata. Ricordo semplicemente le cinque tipologie di venditori. Il duro lavoratore, the hard worker, lo sfidante, colui che sfida, the challenger, il costruttore di relazioni, the relationship builder, the lone wolf, il lupo solitario, e il reactive problem solver. Il risolutore di problemi, reactive, significativo, reattivo, perché adesso partiamo proprio da questo per spiegarlo. Perché fondamentalmente risolvere problemi è tipico del venditore moderno, del venditore di oggi, che non va a proporre caratteristiche, non va a raccontare quanto sono bravo, quanto è brava la mia azienda, e quali sono i prodotti meravigliosi che sto proponendoti, ma va a portare soluzioni. Lo vedremo quando parleremo del challenger. Allora, perché il venditore problem solver, il risolutore, viene confinato in fondo, in questa classifica, viene identificato come un venditore che oramai ha poche chance di successo? Perché qui, per risolvere i problemi, si intende quei problemi che non tocca a lui risolvere. Cioè il venditore che si frappone tra azienda e cliente e vuole gestire ogni cosa. C'è un problema dopo la vendita, c'è un problema di consegna, che pensimi, direbbe il milanese imbruttito, ci penso io, faccio tutto io, impedisco al servizio, impedisco all'amministrazione, impedisco ad altri di frapporsi, di interpellare direttamente il cliente, perché io mi frappongo, perché io voglio avere il controllo del cliente. È un venditore destinato all'insuccesso, anche perché non ha tempo per fare altro e soprattutto perché impedisce quel normale, giusto, sano contatto tra azienda e cliente. L'altra precisazione che dovevo fare è sul venditore, costruttore di soluzioni, relationship builder, colui che ha come caratteristica quella di vendere all'interno di una relazione. Mentre tutto quello che stiamo dicendo è che questa relazione si costruisce. Certo io vendo all'interno di una relazione, ma una relazione che si è costruita sulla base di una professionalità, non di un'amicalità da bar. La grossa differenza è questo. Nessuno sta dicendo che è irrilevante o che non sia importante costruire relazioni con i clienti, ma devono essere relazioni basate su una stima, una fiducia reciproche e non basate su un tratto di simpatia, di amicalità. Se vogliamo magari anche di empatia, che ci sta bene in una relazione, ci mancherebbe altro, ma non deve essere dominante. Il venditore di relazione è colui che non vuole far insorgere conflitti. Mentre invece vedremo uno dei punti chiave del venditore challenger, del venditore considerato vincente in questo modello, è proprio quello di generare tensione, ma una tensione sana positiva che spinge verso nuovi orizzonti, verso nuove soluzioni, verso un incremento di profitto, vendendo valore. Io ovviamente uso il mio linguaggio, mi sono riconosciuto molto in questo libro. Io credo che a volte le intuizioni arrivino al di là degli studi. Non sto certo dicendo che ho chissà quale pregio e quale merito. Assolutamente no. I miei studi sono continui, sono anni che lavoro in questo settore, che conosco aziende, che comprendo, capisco, colgo spunti dalle aziende in molti settori differenti. Ho lavorato nel retail, così come nell'industria pesante, nel business to business, come nel business to consumer, nell'elettronica, nell'informatica. Ho avuto la fortuna di lavorare in molti settori con molti clienti. Ho appreso molto da tutte queste diversi segmenti di mercato, dal lusso all'alimentare, all'industria pesante, come dicevo, macchine a controllo numerico, macchine utensili, presse, e chi più ne ha più ne metta. Ma alla fine si arriva a questa considerazione. Mi ha fatto piacere trovarle spiegate, approfondite, sicuramente molto più fondate su una parte di analisi di indagine, su questo libro, ma direi che sono in piena sintonia, quindi permettetemi ogni tanto di utilizzare il linguaggio di vendere valore. Se io voglio vendere valore, devo avere questa capacità, sì, di risolvere i problemi, ma dentro un futuro. Quindi mettere tensione al cliente, mentre il venditore di relazione, così come descritto qui, è qualcuno che cerca di far andare tutti d'accordo, di non creare tensione, di gestire le relazioni, per poter creare un ambiente pacificato nel quale piazzare i propri prodotti. Quindi, primo punto su cui volevo soffermarmi è questa precisazione di queste diversi tipologie di venditori per spiegare meglio quello che è stato detto nella volta scorsa. Quello che è significativo poi è quali sono i tratti dominanti che caratterizzano il venditore challenger, cioè qual è la modalità attraverso la quale il venditore challenger esercita la sua azione, i comportamenti tipici. In inglese sono tre T, teach, tailor e take control, più c'è questo tema della tension, del creare tensione, quindi addirittura T4. Io lo traduco con un più semplice, più banale, chips, perché in italiano potrebbe essere riassunto così. Quindi, insegnare, personalizzare, controllare, creare tensione e spiegare. Cerchiamo di precisare meglio questi elementi. Cosa vuol dire insegnare? Vuol dire essere capaci di differenziarsi, di far capire la propria competenza, di creare la propria affidabilità attraverso la capacità di far vedere al cliente la situazione in maniera diversa. Il venditore che conosce il mio settore, che mostra di conoscere i miei problemi, che mostra di sapere quali sono le sfide che affronto tutti i giorni, ha sicuramente un vantaggio rispetto ad altri. Altri che invece conoscono molto bene il loro prodotto, sanno perfettamente cosa fa il loro prodotto e mi vogliono parlare del loro prodotto. Io sono stufo di parlare con dei fornitori, dicono i clienti, che vogliono carpirmi informazioni partendo dalla descrizione del loro migliore prodotto. Quello che è significativo ci torneremo ma adesso lo accenno è questo bellissimo momento in cui si dice che nel colloquio con il challenger i clienti sono talmente affascinati dalla sua capacità di insegnare e vedremo ancora meglio fra poco cosa vuol dire ci tornerò sopra che sarebbero disposti a pagare anche soltanto per il colloquio mentre con altri venditori hanno la netta percezione di venire derubati nel libro si dice proprio questo termine robbed derubati del proprio tempo molto interessante quindi il venditore challenger deve essere capace di insegnare che non vuol dire salire in cattedra attenzione io non sto ancora parlando del modo con cui fare queste cose sto parlando dell'azione da svolgere l'azione da svolgere è quello di illuminare il cliente partendo a fargli comprendere che conosco il tuo mondo che uso il tuo linguaggio che so di cosa si sta parlando che capisco bene la realtà che vivi perché la conosco perché l'ho affrontata perché l'ho vissuta perché so quali sono le sfide che tu devi tutti i giorni superare devo essere in grado di personalizzare e questo è l'elemento che fa entrare in risonanza con il cliente personalizzare vuol dire che non che devo per forza manipolare il prodotto la soluzione per fartela sentire addosso in maniera impeccabile ma che io ti presento la mia soluzione il mio prodotto perché poi alla fine magari è anche quello il mio servizio ma visto come soluzione al tuo problema attraverso una modalità che tu senti tua come se tu sentissi che quel prodotto è stato studiato appositamente per te attenzione non si tratta di manipolare non si tratta di turlupinare il cliente di truffarlo no si tratta di far capire che sai qual è il suo specifico problema la mia azienda è diversa dalle altre mi rendo conto di quello che lei mi sta dicendo ma noi siamo diversi siamo diversi certo io capisco che tu sei diverso proprio per questo io ho qualcosa che è capace di risolvere il tuo problema perché poi è vero che tutte le aziende sono diverse ma guardiamoci allo specchio i problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno sono più o meno gli stessi non saranno sempre gli stessi del mio concorrente ma ci sarà una buona fetta di sovrapposizione con le aziende del mio settore o con aziende di un altro settore che però il venditore conosce e quindi con i problemi che altri hanno già affrontato e magari superato con il suo aiuto quindi personalizzare vuol dire questo prendere il controllo il venditore deve guidare il controllo essere assertivo nel modo giusto ecco il modo giusto dipenderà dal cliente dipenderà forse anche dallo stile del venditore qui potremmo parlare del modello disco di altri modelli che vanno a esaminare le tipologie relazionali in funzione del tempo ma questo concetto che il venditore deve guidare un colloquio lo sappiamo da sempre il corso Kaser fatto negli anni 90 quando ero venditore mi occupavo di marketing in azienda diceva bisogna guidare il colloquio chi domanda guida la domanda è quella che guida oggi forse la domanda guida un po' meno perché ci sono dei momenti in cui bisogna essere appunto più assertivi che non vuol dire aggressivi vuol dire essere capaci di portare il cliente là dove devo con la forza e la delicatezza necessarie per mettetemi una battuta il famoso questa mano può essere de ferro può essere de piuma ma detto così non so neanche parlare bene il romanesco ma ci siamo capiti e devo mantenere tensione devo creare un minimo di tensione perché questa tensione questa insoddisfazione questa insofferenza in cui il cliente si trova cioè che si sente non a suo agio nella situazione si rende conto che ha un problema e che si può fare meglio è la molla che fa andare avanti onde per cui è evidente che questo tipo di approccio va a stanare quelle aziende che dicono non ho bisogno più di niente so tutto io abbiamo sempre fatto così ma va anche a definire una riga tra coloro ai quali io voglio rivolgermi e quelli no se io guardo la famosa curva che mi parla degli early adopter e via dicendo quindi la curva di cui abbiamo già parlato anche la volta scorsa degli innovatori beh è evidente che io andrò da coloro che vogliono sempre migliorare che vogliono sempre fare qualcosa è difficile applicare un modello del genere con clienti che sono seduti sulle loro abitudini ma noi abbiamo sempre fatto così ma questo è il modo con cui si agisce il nostro settore è fatto in questo modo se io provassi a cambiare le cose non funzionerebbe mai mi spiace ma noi agiamo in questo modo ce ne sono molti io sono convinto che magari avranno anche un grande successo non so se dureranno ma non sono qui per mandare maledizioni sono qui per lavorare con coloro che vogliono cambiare vogliono migliorare peraltro fa parte del nostro modo di presentare l'azienda come ci presentiamo noi ci presentiamo in questo modo lavoriamo con qualunque tipo di interlocutore non ci importa la dimensione quello che ci importa è la voglia di migliorare io credo che questo sia un punto chiave torniamo a questi tre elementi teach tailor and take control quello che viene indicato in maniera molto evidente nel testo ma mi sembra abbastanza chiaro è che devono essere presenti tutti e tre se manca uno o due di questi elementi non siamo di fronte al venditore sfidante siamo di fronte a una cosa diversa un venditore assertivo ma che non voglia insegnare quindi dare fondamentalmente un valore aggiunto un contributo al cliente e che non sia disposto a personalizzare alla fine è un piazzista con tutto rispetto per i piazzisti oggi non si può neanche più fare una battuta senza che qualcuno si sdegni lungi da me parlare male dei piazzisti ma è chiaro che nella lingua italiana il termine piazzista mi ricordo sprizzi sprazzi il piazzista degli spazi di un vecchio carosello identifica una modalità di vendita molto aggressiva a volte ai limiti della legalità ai limiti dell'onestà ai limiti della moralità che viene effettuata in maniera decisamente aggressiva se questa roba qui non rappresenta il piazzista di oggi ammesso che qualcuno si definisca ancora piazzista mi spiace di avere turbato qualcuno volevo identificare questo modello se io insegno quindi se sono disposto a dare valore ma non guido e non personalizzo sono una conferenza una conferenza ambulante e non certo un venditore se io personalizzo ma non prendo il controllo e non insegno sono in balia del cliente quindi vedete che tutti questi elementi sono necessari tutti questi elementi sono fondamentali ora veniamo a capire come tutto questo possa essere calato nel mondo italiano come possa essere adattato al nostro mondo e quali possono essere gli eventuali rischi o difficoltà da superare se si possono superare rischio numero uno secondo me un rischio decisivo abbiamo a che fare con imprenditori spesso e volentieri non soltanto con dirigenti quando ci rivolgiamo alla piccola media impresa spesso l'interlocutore con il quale parliamo è il titolare d'azienda in questo caso io credo che dobbiamo tener conto di quello che è la realtà di casa nostra di quello che è il modo con cui le aziende si sono formate si sono cresciute e sicuramente è questo forte senso di controllo di proprietà di importanza anche se volete un po' di vanità ma ci sta ci sta benissimo dell'imprenditore italiano quindi nel momento in cui io vado a insegnarli qualcosa beh devo stare molto attento perché la strada che mi vede buttato fuori dalla porta è molto scorrevole è molto rapida è molto veloce io credo che quello che più di tutto oggi detesti un imprenditore sia la boria sia la vanità sia la presunzione e l'orgoglio e credo che questo vada anche bene un po' perché nella nostra cultura c'è un po' questa diffidenza di fondo verso quello che arriva e pensa di insegnarmi qualcosa anche nelle imprese più grandi dove magari il mio interlocutore è un dirigente o un dipendente comunque il punto essenziale è quello di avere la sufficiente autorevolezza per poter raccontare questo quindi potrebbe essere il brand aziendale potrebbe essere il brand personale e questo ci riporta a un punto significativo importante cioè il fatto che io debba comunque andare a lavorare per costruire la mia autorevolezza e la mia reputazione io ritengo questo un punto chiave oggi chiunque qualunque venditore Fabio Tognella per esempio ce lo potrebbe spiegare molto bene lo chiamo in causa direttamente se ascolta questo podcast e vuole intervenire sicuramente condividerò con voi il suo parere il suo contributo lasciato sul canale Vendere Valore è importante che ognuno abbia quella autorevolezza quella competenza che gli permette di sedersi guardare in faccia il cliente e sapere di poter essere ascoltato è un'autorevolezza che si costruisce prima ma si costruisce nel momento del dialogo con l'imprenditore mostrando di conoscere le sue fatiche torno su questo punto che per me è essenziale io lo vedo quando parlo con qualche cliente e uso il loro linguaggio ma non perché ho letto il linguaggio del retail for dummies la sera prima e so che devo usare la parola category devo usare la parola scaffale devo usare la parola rottura di stock perché fa figo e perché così la gente dice guarda che bravo parla al mio mondo no perché ho capito quali sono i tuoi problemi avendo lavorato con imprese che fanno il tuo stesso mestiere magari in altro settore che fanno il tuo stesso mestiere e quindi conosco alcune problematiche conosco l'organizzazione delle aziende conosco l'organizzazione dei clienti di queste aziende so quali sono i modelli allora questo mi costituisce come autorevole come una persona che si è guadagnata il diritto ricordo che quando ho iniziato a fare questo lavoro correva il 1995 lavoravo con un'impresa che rappresentava all'epoca una società di formazione importante che si chiamava Times Mirror Training poi diventata Achieve Global americana uno dei programmi che lavorava proprio sulla costruzione dell'autorevolezza diceva che un punto chiave del percorso è quello di earn the right guadagnarsi il diritto di poter stare davanti al cliente e parlare con lui credo che questo sia uno dei punti chiave su cui si debba ragionare uno dei punti chiave che ci permette di poter parlare direttamente con il nostro interlocutore che sia l'imprenditore o no ecco se io sono capace di analizzare e capire quali sono i suoi problemi e le sue sfide io posso cominciare a insegnare un ultimo accenno poi chiudiamo questa puntata rimanendo così all'interno dei 20-25 minuti che mi hanno detto in diversi è la misura giusta per poter ascoltare il podcast senza rilanciare senza rimandare ecco allora cosa devo insegnare devo far capire che conosco il tuo mercato e poi guardarlo con un punto di vista diverso guardarlo con un occhio differente aiutarti a vedere la tua situazione quella del tuo cliente con uno sguardo diverso vi faccio un esempio molto semplice forse è banale forse è veramente piccolo esempio ma significativo avendo aiutato un'azienda che voleva vendere i suoi prodotti che possono rientrare nel tema del prodotto da regalo diciamo così di un tipo molto particolare ecologico biologico in altri paesi uno dei punti chiave su cui li ho aiutati a riflettere è che inutile che io ti parlo bene del mio prodotto di quanto è bello di quanto è significativo perché il distributore dall'altra parte che ha già in catalogo magari 10.000 prodotti vuole sapere per quale ragione deve aggiungere il tuo e quindi la domanda che ti farà non è è buono è bello è significativo è importante ma è come lo promuovi qual è il tuo piano di marketing in che modo mi aiuti a vendere meglio che strumenti mi metti a disposizione per poter facilitare il mio lavoro il lavoro dei miei agenti il lavoro dei miei venditori in che modo tu pensi di emergere nel mio catalogo perché io dovrei mettermi questo prodotto nuovamente in casa quando ne ho altri magari simili ecco il punto su cui chiudo questa puntata sul quale vi invito a riflettere è questo cosa so io di più del mio cliente per insegnargli qualcosa che cosa so che lui non conosce qual è l'insight una parola chiave che torna spesso nel libro questa capacità di guardare dentro le situazioni con uno sguardo diverso che cosa so di lui qual è il mio insight che mi permetta di dargli un valore aggiunto cioè dobbiamo evitare la risposta del cliente sono perfettamente d'accordo con quello che dice o perlomeno superarla magari in prima battuta ottenere questa risposta perché ti mostra di capire che tu conosci il suo mercato ma non mi devo fermare qui la risposta che noi dobbiamo ottenere dal cliente è non ci avevo pensato è la prima volta che qualcuno mi dice una cosa del genere ma siamo sicuri che sia vero meglio il dubbio perché vuol dire che comunque non ci sta pensando che l'appiattimento sono d'accordo ha perfettamente è così che funziona è così che funziona lo sa già non gli stiamo dando nessun aiuto gli stiamo solo facendo capire che lo capiamo ma questo lo fanno magari anche gli altri fornitori il passo in più che noi dobbiamo fare è accidenti non ci avevo mai pensato ah ma quello che mi sta dicendo apre spalanca grandi orizzonti questo è quello che dobbiamo ottenere e con questo chiudo la puntata di oggi nella prossima di cosa ci occuperemo cercheremo di andare in dettaglio su queste tre qualità su questi tre elementi tipici del venditore che generano questa tensione e affronteremo più nel dettaglio come sia possibile generare un valore con il cliente utilizzando il teach l'insegnare il tailor personalizzare e il take control prendere il controllo della visita del cliente eccoci giunti alla fine quindi ripassino di questa puntata abbiamo visto quali siano le tre qualità che permettono al venditore challenger di vendere di più abbiamo visto quali sono descritti meglio le tipologie dei cinque venditori abbiamo capito cosa significa con costruttori di relazioni e come non funzioni più oggi abbiamo capito cosa vuol dire problem solver reattivo e perché non va bene alle aziende e abbiamo lavorato per capire come sia adattabile al mondo italiano questo concetto del vendere attraverso una sfida cioè aiutare il cliente ad avere valore comprendendo dei problemi che non ha ancora affrontato ma che lo assillano che gli impediscono alla fine della fiera di guadagnare di più di marginare di più questo è il punto chiave ho invitato Fabio Tognella la terza volta che lo cito gli chiederò le royalties a questo punto o me le chiederà lui le royalties io gli chiederò la sponsorizzazione lui le royalties a darci una risposta su questo tema volentieri se può farlo se ha tempo di farlo molto volentieri le condividerò nel canale Telegram e questo mi permette di dirvi che vi invito tutti a sottoscrivere il canale Telegram telegram.me slash vendere valore dove non soltanto vengono presentate le puntate ma tutti questi contributi che derivano anche dagli ascoltatori e come fate a lasciarmi i contributi semplice utilizzando Telegram e lasciandomi un messaggio telegram.me slash paolo puni potete lasciarmi un messaggio audio un messaggio scritto come preferite se preferite i vecchi sistemi la mail è paolo.pugni chiocciolayumediaweb.com oppure venderevalore chiocciolayumediaweb.com oppure potete utilizzare il profilo LinkedIn paolo puni per scrivermi diversi l'hanno fatto in questi giorni anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno festeggiato con me l'anniversario 23 anni dalla fondazione dell'azienda che ha cambiato nome ma che fondamentalmente è la Family Company che è tuttora viva e che porta il nome di Pugni Malagò mio e di mia moglie che è anche socia di lavoro e coprotagonista di tutto quello che facciamo nel nostro team in questi 23 anni si sono aggiunti anche altri familiari per lavorare insieme perché nello stile italiano siamo proprio una Family Company quindi potete anche andare a visitare il sito Pugni Malagò www.pugnimalago ovviamente la ho accentata in fondo non c'è quindi dovrei leggerlo pugnimalago.it e magari se volete lasciarvi un parere sarò felice di avere il vostro parere come dicevo molti mi hanno scritto su LinkedIn per congratularsi di questi 23 anni grazie li ringrazio tutti ho cercato di rispondere a tutti i messaggi ma colgo anche qui l'occasione per ringraziare tutti i miei ascoltatori colgo l'occasione per ringraziare la donna coi baffi che si è aggiunta proprio poche ore fa al canale Spreaker di vendere valore spero che sia soddisfatta delle puntate che ha potuto ascoltare io vi do appuntamento giovedì con l'intervista e poi giovedì prossimo dopo un lunedì con una seconda intervista per la terza puntata di The Challenger Sales come fare a migliorare la vendita nel nostro mondo partendo dalle stimolazioni e gli spunti che ci arrivano dagli Stati Uniti un saluto a tutti da Paolo Pugni e da Vendere Valore Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni